Salve amici del Centrometrio italiano, alta pressione in espansione con tempo decisamente più stabile. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 5 luglio. Condizioni di tempo asciutto al mattino al nord e a sud con cieli sereni al più poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche addensamento in sviluppo su Alpi e Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata è notata nuvolosità in transito al nord ma con tempo asciutto ed ampie schierite altrove. Temperature minime senza particolari variazioni e massime in rialzo su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometrio italiano. Grazie a tutti.